La Fortitudo Mongata Grigento di Basket ha stilato il calendario del pre-campionato della squadra. Il DS Christian Maier e il coach Franco Gianni hanno fissato alcuni importanti appuntamenti durante la preparazione fisica che prenderà il via domani 21 agosto, un calendario di amichevole tornei che serviranno a testare il nuovo gruppo e portarlo pronto al 5 ottobre data prevista per la prima del campionato di Serie A2. La squadra bianca-azzurra incontrerà il 3 settembre la parigrado Basket Trapani sul parquet del Palauriga all'indomani della presentazione del nuovo roster prevista per venerdì 5 settembre. I ragazzi di Gianni ospiteranno invece le Aguile Basket Palermo, formazione che milita nel campionato di B2 in cui ha prodato, tra l'altro, l'ex Fortitudo Michele Giovanatto. Il 10 settembre sarà la volta della trasfetta in quel di Capo Torlando contro la Neoripescata nella massima serie. Ultimi impegni prima del via ufficiale, il torneo di Reggio Calabria il 20 e 21 settembre insieme a Trapani e Orlandina e il torneo a Napoli in programma per il 27 e 28 settembre che rappresenta la prima vera occasione per testare le rivali di quest'anno.